buongiorno a tutti oggi vediamo come smontare lo specchietto laterale dell'alfa romeo per prima cosa sganciate la copertura di plastica è semplice basta tirarla via ci sono delle linguette d'alluminio dentro devono rimanere attaccate alla copertura di plastica se rimangono sulla portiera le togliete e le rinfilate nel loro alloggio è un'operazione molto semplice ora svitate i 4 bulloni da 10 mi raccomando mentre li svitate con una mano tenete lo specchietto verso la fine in modo che non caschi per terra sganciamo il cavetto che collega lo specchietto a una clip semplice e si tira via facilmente buongiorno a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.